Previsioni rispettate. Nicola Gatta, il sindaco di Candela, è il nuovo presidente della provincia di Foggia. Prevale con il 62%, succede a Francesco Miglio e la spuntata sul sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla. Gatta ha un passato in Forza Italia, attualmente in quota a Capitanata Civica, ma in questa circostanza era il candidato del centrodestra che riconquista Palazzo Dogana. Nulla da fare per Merla, che tuttavia raggiunge un ottimo risultato, visto che a sostenerlo c'era solo il PD. La vittoria di Gatta è anche il riscatto dei piccoli comuni, soprattutto dei Monti Dauni, che in questi anni sono riusciti più che altrove a fare sistema. Sia Gatta che Merla sono due ottimi amministratori, due sindaci che amano il proprio territorio e sicuramente daranno il loro contributo al rilancio della Daunia. Nicola Gatta è emozionato più che mai, occhi lucidi e tanta tanta gioia per aver raggiunto un traguardo tutto meritato. Felicissimo, onorato e grato di questo grandissimo risultato. Questi giorni ho girato tutto il territorio provinciale, ho incontrato tanti bravi amministratori, un bellissimo territorio ricco di tante risorse che dovremmo mettere a sistema. La mia candidatura è una candidatura nata dal territorio, quindi lavorerò in questi giorni, studierò, capirò un po' quali possono essere le direttrici di sviluppo del territorio, ma la prima cosa, la priorità assoluta è quella di migliorare un sistema infrastrutturale viario che è assolutamente non messo bene e che dovremmo appunto migliorarlo. Perché? Perché per fare sviluppo, per fare turismo abbiamo bisogno delle strade, di una viabilità che sia all'altezza. Miglio ha detto che gli ha lasciato una provincia quasi in buona salute. Il Presidente Miglio sicuramente ha lavorato in un momento non facile per le province. Ora c'è bisogno di dare uno slancio alle province, di guardare le province con una visione strategica più ampia, ma di pensare anche le province più vicine ai cittadini, che in questi anni purtroppo si è avuta questa assenza. Presidente, si può dire che i piccoli comuni esuffugnano il palazzo? Sì, si può dire proprio così, infatti mi aspettavo un risultato maggiore da Foggia, non è arrivato, però era anche, diciamo, come dire, purtroppo da aspettarselo, perché è chiaro che vedere un sindaco di un piccolo comune candidato alla presidenza della provincia fa un po' ingelosire. Infine Gatta risponde alle domande relative alla sua appartenenza politica. Allora, io non ho alcuna tessera di partito, ma sanno tutti la mia provenienza. Io un'unica tessera di partito che ho avuto è quella di Forza Italia, quindi cercherò di lavorare per l'unità del centro-destra, ne abbiamo bisogno.